Unesima cattura effettuata nel fiume Poc, agosto 2010, una delle tante catture di questa settimana, acqua è a 24 gradi, ma comunque il pesce tira forte, adesso sta puntando il fondo, è appena venuto a galla, sembra proprio un siluro. Adesso, in questo momento, il siluro sputa, la torniamo di una macella, sembra che si tratti di un maschio, che abbiamo dovuto esemplare, però in ogni caso, non ce la sentiamo di ucciderlo, quindi, lo teniamo in vita, e poi lo maltracchiamo, e comunque, a dopo, a dopo per le foto di rito. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!